Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Una tremenda notizia è appena arrivata, è morto il famoso attore italiano. Da qualche tempo era malato, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate. Poco prima di morire, ha espresso le sue ultime volontà, ha chiesto che le esequie si svolgano in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari. Nel 2013 gli fu assegnato il Pegaso d'oro dal Premio Internazionale Flaiano e il titolo di Cavaliere della Repubblica, per la sua attività artistica, onorificenza conferitagli dal Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Ecco chi ci ha appena lasciati. L'attore ha interpretato un vastissimo repertorio, affrontando opere di autori leggendari come Shakespeare, Brecht, Goethe, Molière, Chekhov e molti altri. I personaggi che ha interpretato resteranno nella memoria di tutti noi, così come resterà nel nostro cuore la sua umanità, il suo entusiasmo e la sua gentilezza d'animo. E' scomparso all'età di 77 anni Roberto Sturno. Nato nel gennaio del 1946 a Roma, Sturno, nel 1981 aveva formato una coppia artistica fissa a teatro con Glauco Mauri, la compagnia Mauri Sturno. Roberto Sturno è morto nella sua casa di Tagliacozzo, in Abruzzo.